Da Theresienstadt andrà a Belsen e da lì chi può saperlo? Caro Dio, scrive Lilli nel suo diario, proteggi la ragazza che amo più di ogni cosa. Feliz, il mio cuore non batte più dal dolore. Non voglio più vivere. La guerra si spegne sulle macerie fumanti di Berlino. Feliz non torna, nemmeno Gunther, morto nel corso di un'azione sul fronte orientale. Lilli si trascina, incapace di immaginare un futuro senza Feliz. Non ho mai abbandonato la speranza, nemmeno dopo che la guerra era ormai finita. Ho scritto e fatto ricerche ovunque, per anni. Non ho mollato un solo istante. Ho sempre continuato a sperare. Poi un giorno, doveva essere più o meno il 1946, lessi sui giornali che a Mecklenburg, dove li avevano portati in marcia dal campo di concentramento di Belsen, avevano trovato nei pressi di un fienile i corpi di 700 donne. Crollai di nuovo, perché Feliz poteva essere una di loro. Questa possibilità purtroppo esisteva davvero. Il dolore che provai fu enorme e io ne fui annientato. Fu una cosa sconvolgente. L'idea che il corpo di Feliz potesse essere fra quelli mi dilagnava. Ero disperata. Feliz era la ragione della mia esistenza. Da allora ho continuato a vivere con i suoi ricordi intorno a me. Non li ho mai abbandonati. I suoi libri, le sue fotografie. L'ho sempre sentita dentro di me. Potete pensare che io sia matta, ma quando camminavo da sola per la strada andando al lavoro, senza nessuno con cui parlare, ho sempre sentito la sua presenza. Non so come spiegarlo, ma ancora oggi io la sento. Insomma, è come se lei fosse ancora con me. Gli anni passano. Lilly porta avanti la sua vita nell'anonimato. Lavora, cresce i suoi figli, ma continua a vivere nel passato. Nessuno potrà mai sostituirsi a Feliz. Poi nel 1981, una riconoscente Germania le attribuisce un'onore efficienza per l'aiuto dato agli ebrei durante la guerra. La donna, una volta sospettata di simpatie naziste, si rivela completamente diversa. Sono grata di aver potuto assaporare un momento così. L'abbiamo vissuto con intensità totale. Felizia amava la vita con tutta se stessa. Avrebbe dovuto vivere un poco più a lungo e questo sarebbe stato sicuramente un dono meraviglioso. Avremmo potuto costruire una famiglia, la nostra famiglia. Insieme avremmo potuto crescere i bambini, perché è così che si fa. E io avevo i miei bambini. Volevamo crescerli insieme e passare tutta la vita l'una vicino all'altra. Oggi penso che quei 18 mesi sono stati un dono che non potrò mai dimenticare. Nella mia infelicità posso dire che adesso sono felice e grata per quei giorni vissuti con la mia compagna. Sono stati dei giorni d'amore e quel meraviglioso ricordo lo serberò per sempre dentro di me. e benedicare. Grazie a tutti. Grazie a tutti